Trovati a Notizie di Prato Tg, partiamo da una notizia di cronaca anche un po' curiosa. Un ragazzo ha utilizzato una carabina d'aria compressa del nonno sparando sulle auto in transito. Nella zona di San Giusto però ha colpito un'automobilista. Sentiamo com'è andata a finire. Ha preso la vecchia carabina d'aria compressa del nonno e ha iniziato a sparare sulle auto in transito. Questo è successo nel pomeriggio di ieri nella zona di San Giusto quando un 17enne pratese ha ferito di striscio alla spalla sinistra un'automobilista ha colpito la carrozzeria di un'altra auto. Gli agenti della volante, subito intervenuti, sono riusciti a localizzare l'abitazione dalla quale erano stati esplosi i colpi e hanno individuato il ragazzo che si trovava a casa della nonna paterna. I poliziotti hanno anche trovato la carabina intestata al nonno defunto e adesso affidata alla responsabilità del padre del 17enne. L'arma è stata sequestrata insieme a 638 pallini di piombo, mentre il ragazzo è stato denunciato per lesioni personali aggravate, danneggiamento ed esplosioni pericolose. Denunciato anche il padre, un uomo di 44 anni, per omessa custodia dell'arma. Il 17enne avrebbe confessato di aver sparato per gioco sulle auto di passaggio. Stava tentando di rubare su un'auto parcheggiata nella zona di via Ciliani quando è stato sorpreso dai carabinieri del radiomobile. Finita così l'avventura di un quarantenne albanese, residente a Pistoia, fermato e arrestato dai militari all'alba di oggi. L'uomo dovrà rispondere di tentato furto su auto. Il quarantenne aveva appena rubato all'interno dell'auto una Daewoo dopo aver spaccato il vetro con un bastone di legno. E' grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via del Purgatorio, all'altezza dell'ingresso posteriore dell'ippodromo e dei campi della Zenit. La vittima è un cittadino cinese di circa 30-40 anni che non è stato ancora identificato. E' stato soccorso dal 118 e ricoverato in codice rosso al Santo Stefano. Intorno alle 17 l'uomo procedeva in sella a una bici quando è stato urtato da un'auto che lo ha fatto cadere rovinosamente a terra. La dinamica esatta dell'incidente al vaio della Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi sta ora cercando di identificare l'uomo che non aveva documenti ed era in stato di semi-incoscienza. Parliamo di fognatura industriale perché ci siamo dopo tanti anni di attesa diventata realtà. Si tratta di 53 chilometri e 25 milioni di euro di investimento. Oggi la firma dell'accordo con il Comune seguita per noi da Alessandra Grati. 53 chilometri di rete fognaria, 25 milioni di euro di investimento e 15 anni di trattative per iniziare i lavori di separazione fra le fognature industriali e quelli civili. Questa mattina è stato firmato l'accordo tra l'amministrazione comunale e il Consorzio Progetti Acqua, finanziatore dell'opera, che prevede il completamento dei lavori entro il 2023 attraverso quattro lotti, Macrolotto 1, Macrolotto 2, Montemurlo e Macrolotto 0. A settembre si concluderà il cantiere che interessa via Toscana e via Paronese, che allaccerà 15 imprese al nuovo sistema fognario. È stato un lavoro molto complicato, però davvero in questo caso abbiamo tutto da guadagnarci. Certo l'investimento è ponderoso perché sono oltre 25 milioni di euro complessivi, certo è complicatissimo perché sostanzialmente passa un'infrastruttura privata che si occupa di acqua, quindi di un bene più che tutelato, giustamente, sotto le strade del proprietario dell'amministrazione comunale, però il risultato è risparmi e efficienza per le aziende, più tutela dell'ambiente, e un risparmio dell'acqua per la comunità complessiva. Ogni anno tra fanghi industriali e civili vengono depurate circa 35 mila tonnellate. In media gli industriali pagano 0,61 euro alla tonnellata per lo smaltimento, contro lo 0,20 pagato nel 2004. Purtroppo ci è voluto 16 anni quasi e quindi questo ci penalizza ancora di più perché a quell'epoca le aziende erano 350, ora le sono 200, quindi capite che i costi vengano divisi su meno aziende. C'erano tre lavoratori senza contratto nella lavanderia industriale cinese controllata ieri dalla squadra Interforze, coordinata dalla Questura, per questo motivo è scattata la sospensione dell'attività dell'azienda che si è vista anche sequestrare un totale di 23 macchinari per violazioni sia di natura amministrativa che penale. La lavanderia si trova a Grignano e dà lavoro a cinesi, italiani e pakistani. La titolare, oltre a essere multata per quasi 2.800 euro, è stata denunciata anche per scarico non autorizzato dei rifiuti e gestione illecita degli stessi. Secondo quanto appurato non erano state chieste le autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue nella fognatura. Parliamo ora di campagna elettorale. Questa mattina il candidato del centrodestra Daniele Spada ha fatto un sopralluogo allo stadio Lungo Bisenzio per fare il punto sui lavori realizzati, su quelli che a suo avviso mancano da fare per rendere questo impianto appetibile per la gestione, ma è polemica. Sentiamo. È uno stadio chiuso da due anni, in uno stato di evidente incuria e abbandono e per cui ci vorranno diverse centinaia di migliaia d'euro a nostro giudizio per essere messo non solo a norma ma reso in condizioni dignitose. Così il candidato del centrodestra Daniele Spada al termine del sopralluogo di Stamani all'impianto del Lungo Bisenzio con la coordinatrice provinciale di Forza Italia l'onorevole Erika Mazzetti e la candidata all'europea nella lista degli azzurri Rita Pieri, consigliere comunale oscente. Spada critica la decisione del comune di passare dalla manifestazione di interesse anziché pubblicare direttamente il bando. L'amministrazione ha buttato la palla in calcio d'angolo perché non ha fatto il bando che prometteva di fare da mesi, ha fatto una manifestazione di interesse per poi fare a giugno il bando. Beh a giugno ci occuperemo uno della situazione e daremo una svolta. Gli uffici comunali precisano che la procedura adottata per la ricerca del gestore dello stadio è quella prevista per legge per tutti gli impianti sportivi e che è di esclusiva competenza diligenziale. Sulla possibilità che Toccafondi, patron dell'Acci Prato, ritorni a Lungo Bisenzio, Spada non esclude nulla. Sicuramente mi siederò con lui come tutte quelle altre società che potessero essere interessate a gestire lo stadio. Dichiarazioni troppo vaghe per piacere la tifoseria della curva ferrovia che al solo pensiero di rivedere Toccafondi a Lungo Bisenzio tira fuori gli artigli. Che sia nuovamente chiaro che chi sostiene o appoggia direttamente o indirettamente l'attuale proprietà è contro la tifoseria tutta e contro il bene dei pratesi e della propria identità calcistica, hanno detto i tifosi. Il vice sindaco con Dallega allo Sport, Simone Faggi, presente al sopralluogo di oggi, ricorda che l'impianto è omologato per la Lega Pro e adattabile al bisogno per le serie superiori. Sulle dichiarazioni di Spada aggiunge Per parlare di questo impianto, aggiungo, bisogna conoscerla bene, la storia calcistica della città. Bisogna conoscerla e mi permetto anche averla amata. Sui lavori alle piscine comunali che di conseguenza resteranno chiuse per la durata dei cantieri. Alessandra Grati Mesi difficili per i nuotatori. A Luglio chiuderanno la piscina di San Paolo, quella della Geschele e quella di via Marradi. Tre spazi importanti che hanno bisogno di manutenzione. Per la vasca di via Galcianesi i tempi sono limitati, qualche settimana, mentre per quelle del villaggio il cantiere durerà fino a settembre. A Santa Lucia, invece, i tempi sono di almeno sei mesi. Per questa struttura, spiega l'assessore allo sport Simone Faggi, con il decreto sblocca cantieri, visto che l'importo è superiore ai 200.000 euro, dobbiamo adottare una procedura più lunga. Quindi, probabilmente, i lavori inizieranno a luglio e termineranno a febbraio del 2020, lasciando però aperto l'impianto nel mese di giugno. Nel frattempo, il CGFS, gestore degli spazi, deve trovare insieme alle altre associazioni un programma per gestire le attività dei corsi e del nuoto libero. Uno schema che poi sarà utilizzato anche in previsione dei lavori che ternanno chiusi gli impianti di Mezzana, il cantiere partirà nel 2020, e quello di Iolo, previsto per il 2021. Alcol e responsabilità, quinta edizione, stamani in Palazzo Comunale a Prato, le premiazioni. Claudio Vannacci. E' finita con uno spareggio all'ultima domanda. Tra i ragazzi delle scuole medie Lippi, Mazzei, Mazzoni, Malaparte, Convenevole, Pier Cironi e Zipoli, la lotta per salire sul podio della quinta edizione di Alcol e responsabilità, promossa dalla Polizia Municipale, con la collaborazione di ASL, ACI, Associazione Golden Drakes Motorcycle Club Italy, Marco Michelini, figlio del Vento, e Walker Day, e come sponsor ufficiale Omnia Center. La competizione è stata pensata per informare le giovani generazioni sui rischi provocati dalla guida in stato d'ebbrezza, utilizzando una formula divertente basata su domande a quiz. Nel mese di febbraio sono iniziate le selezioni per rappresentare le varie scuole. Il passo successivo è stata un'ulteriore scrematura che ha individuato i 15 partecipanti alle selezioni di questa mattina in Palazzo Comunale. Vuol dire che questa formula funziona, non è solo più la lezione cattedratica tradizionale di educazione stradale, ma trasformata in un gioco, quindi è un format in qualche modo ludico che evidentemente porta frutti. Gli incidenti alcol correlati sono nella media toscana, quindi sono tra il 5 e il 6%, quelli di cui riusciamo a provare l'effettiva correlazione ai sensi di legge, perché poi c'è tutta una zona più grigia che riguarda per esempio tutti i casi di fuga. Soddisfatti i ragazzi per l'esperienza fatta. Molto bello soprattutto perché per le cose che si sono fatte, gli argomenti che si sono trattati, sono più o meno quello che faremo in futuro, le cose che ci hanno preparato per quello che poi andremo a affrontare in futuro, quindi lo trovo molto utile. Ci ha reso partecipi di una realtà che non è sempre molto chiara, non è sempre molto approfondita. Bene è tutto, vi ringrazio per averci seguito. Notizie di Prato Tg torna domani, buona serata.